e alla prossima Maradona parte piano col 6 Engi Thor di galoppo il 4 di Albina Very Nice va a condurre Atina Risaia TRGF impegnata all'esterno da Atlante FEG tiene il contatto lungo la corda Armonica Lanz che ha all'esterno il 9 di Armando Maradona quindi in corda Arroftierre con all'esterno agonista Stifte quindi 3 pariglie con Atlante FEG che insiste all'attacco di Atina Risaia TRGF e tende a passare ma rientra ora col favore della seconda curva Atina Risaia TRGF difende la posizione da Atlante FEG terzo all'interno c'è sempre Armonica Lanz davanti a agonista Stifte avanza a largo intanto il mezzo miglio iniziale è in 1 e 1 Atlante FEG ha trovato posto dietro da Atina Risaia TRGF all'esterno agonista Stifte quindi Armonica Lanz a largo c'è anche Aspen Mail poi ancora Armando Maradona che è in fuori NG Tor siamo in vista del paletto dei 500 finali con sempre Atina Risaia TRGF in vantaggio avvicinata da agonista Stifte che si trascina Aspen Mail paletto dei 1.2 completati in 1 32 e 2 con Atina Risaia TRGF che difende la posizione da agonista Stifte che all'interno Atlante FEG si è spostata dalla corda Armonica Lanz per fare lo spunto ma è stata anticipata da Aspen Mail è proprio Aspen Mail che scatta all'esterno con azione superiore Aspen Mail si getta di galoppo improvvisamente mentre passava in vantaggio la sostituisce allora Armonica Lanz che va su Atina Risaia TRGF la regola chiaramente al terzo posto e ancora Atlante FEG 2-3-5 l'arrivo ufficioso dell'ottava di Capannelle tempo normale 2-4-4 sul mio cronometro media di 1-17-7 stava passando in tromba Aspen Mail con Luigi Farina Junior che tra l'altro aveva chiuso da favorito a 2-90 al totalizzatore ma si è gettato improvvisamente di galoppo vanificando quella che sarebbe stata probabilmente la prima vittoria in carriera prima vittoria in carriera che va allora ad Armonica Lanz Filippo Gallo per Vitale Matera che con fresco spunto regola Atina Risaia TRGF 2-3-5 l'arrivo ufficioso Grazie a tutti